Ecco questo è molto disturbante Per esempio Questo è molto disturbante No fermati dove vai Ubre E ho il lave Mamma mia Kel non corre Mary Che cazzo mi è successo a tutti Grazie alla chiave No Aspetta Sono morti Hiro E' la E' la Non dovevo prendere subito la chiave Dovevo aspettare E' stato avido No A parte non c'è molto altro da fare Credo qui però No è tutto È tutto uno schifo Andiamocene via Non ho fatto l'intro in questa parte Perché sto Perché Questa roba è successa subito dopo Oddio la scorsa Quanto ci metteremo a completare tutta sta roba Oddio la paura delle altezze Eh direi di sì Ma dovuta a cosa Qualcuno è cascato dalla casa sull'albero E si è fatto male Mi ricordo che c'era una casa sull'albero Si è fatto un riposino Ok HP ripristinati Intanto si andava l'uccellino Questo lampione E ridaglie ste cose fuori posto Vabbè ci sta però Siamo in una mente malata Nel senso che c'ha dei problemi Eccola Eh vedi Ah ci ho preso Allora La casa sull'albero Che è vista Ah è vista come se fosse mega in alto Tipo Omori Sei davvero tu? Come mi hai trovato? Ma Kel Obri e Hiro Sono qua Anche loro? Siete mancati così tanto? Sono contento che la casa sull'albero Sia ancora in piedi Tutti Ma alla fine la roba che mi ha disturbato Di più è stata la prima Comunque Di tutto sta Sto carosello di orrori Poi tutto il resto era più o meno Tranquillo Mi chiedo se Conti l'ordine delle porte visitate Oppure Si è scriptato Vabbè Sono contento che ci sia ancora la casa sull'albero Abbiamo lavorato Tutti quanti duramente Per crearla Per costruirla Andiamo a casa Omori Giochi elettronici Andiamoci Addirittura c'è un caricamento Bella sta casa Quanto è che non la pulite? Gatto Toast Gioco Eh questa è la maschera Che c'è nel Nella white Nello white Eh Nello white space Questo è il gatto giallo L'orologio Si I toast Quindi stiamo cominciando a capire da dove vengono tutti gli elementi di gioco Gioco Carte Biscotti Ok Libro Gioco Giocattolo anzi TV Altro gioco Va bene Che è? No Ce l'ha scritto Kel Ehi Sparito Andato Estate Ma che cazzo Data Toast Divertimento Che cazzo sta succedendo qua dentro? Bluk Cook Basil Hai qualcosa da commentare circa il fatto che questa casa sull'albero è uno schifo oppure? No E io scendo perché la sopra mi sembra ci sia molto altro a fare Ascensore Volante Oh vai ora esce Satana sicuro Un ascensore Mi chiedo dove porti Ma come ti viene in mente? Abbiamo una rampa di scale Di scalappioli Da fare per tornare a casa Sei scemo Ciao Devo prendere per forza Eh sì Perché qua non No No aspetta 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 Fammi prima tocca a terreno E ci sono le scarpe Va bene Niente Niente I pulsanti non rispondono Ci sono le scarpe appese Io una volta l'ho visto un tizio che le lanciava lì sopra Io Ma poi Cioè Determinato Quando scattava il rosso Si metteva lì Eh Eh Quando prendeva il verde Se non era riuscito Prendeva le scarpe E si metteva in attesa Bah Fate la pesca Oh ibo Basilo ha una chiave Tintere S Ah sì Ma che è un Subword Dogma Ma che succede Oh ma sembra veramente For the wage of soon as soon as soon But the free gift of god Is the eternal life Dai Ecco Mentre siamo qui Posso condividere qualcosa con te Omori Non ero Pippo prima No no perché è un altro Basilo Ora ti mangio a un mostro Beh non l'hai condiviso con me Sì sì Cazzo Aspetta Amori Penso di essere rimasto incastrato Potresti aiutarmi a uscire? Che cazzo fai Omori Come gioco Non ci siamo Non ci siamo per nulla Allora Salva Vai Altra porta Altro giro di terrori E orrori E Robi non si possono vedere Scusa ma Ehi Cos'è un pesce quello? Che cazzo è All'epoca Volevo salvare ciò che era rimasto Ma anche dopo tutto Tu mi hai abbandonato Pippo Se Pippo fosse in coma Però perché Basilo dovrebbe dirgli una cosa del genere? Cioè dovrebbe cercare di svegliarlo con cose positive invece? Mi sembrava più appropriato Per quanto tu possa dare una persona Al massimo non la vai a visitare Quindi probabilmente La risposta è un'altra Ehm Quindi Tempo addietro Volevo salvare ciò che era rimasto Ma Anche dopo tutto Mi hai abbandonato Pippo Ho aspettato così tanto Finché tu tornassi indietro Anche vederti adesso È difficile pensare In maniera lucida Sento il cuore che mi fa male E voglio coprire la mia faccia e nascondermi Ci sono così tante cose che vorrei dirti Ma le parole non riescono ad uscirmi Io È solo che ho aspettato per così tanto tempo Che tu tornassi indietro Pippo Ma Non l'hai mai fatto Ecco Perfetto L'ho ammazzato C'è il pesciolino fuori Sono camminato sopra Morto Bene Tutto bene In realtà molto male Ma insomma Mano nella mano E cazzo è questo Polpo strano Non nella mano C'è altro C'è altro Beh Em Oh grazie Che ci rimane Oh qua ce ne sono un bel po' Addirittura E in basso Abbiamo spallato tutto Quanto pare sì Quindi ne mancano quattro Più quella rossa Non so se riusciamo a farle tutte oggi Sicuramente non quella rossa Credo Aspettate Ok un po' strano Questo lo conosco Ce l'avevamo state una volta Fatemi vedere una cosa che mi sta inviata Ok scusate Vediamo Il famoso ceppo Che avrà un sitiato Ma quale Oh basta Ti prego Omori Omori Sono proprio qui Tadà Stai sorpreso di vedermi? Mi sono nascosto in questo ceppo Da quando sono arrivato qua Non sono il migliore Nel difendersi Ma penso di essere Piuttosto bravo Almeno a sopravvivere Diventavo un survival All'improvviso il gioco In ogni caso Sapevo che saresti venuto A salvarmi Omori E sono sicuro Riusciremo a uscire Da questo posto Ora che tu sei qua Mi sembra un po' pericoloso Questo posto Ma mi fido di te Non riponi la tua fiducia Su qualcuno di affidabile Perché finora Sei morto in 3000 modi diversi Cioè Sembrava veramente Il libro Il super libro Dei conietti suicidi Tipo Una roba strana Era uscita tanti anni fa E niente C'ho una roba Sulla mano Ehi Omori Sei Ti stai comportando In maniera un po' di staccata Ho fatto qualcosa che non va? No no È proprio il personaggio Così Vuoi prendere la zattera? Sì Vuoi montare sulla zattera? Sì Bel paesaggio Omori Non mi piace molto Questo posto No Perché? È pieno di colori e vita Non ho letto l'ultima cosa che hai detto Vabbè Ma Se non altro Abbiamo l'un l'altro Ah Ah Che cazzo ridi? Siamo l'un Tu sei l'un'entità colorata Ti dà fastidio? In realtà c'è qualcosa che mi sta disturbando Ti va di ascoltarmi? Andiamo in un igloo All'improvviso Un igloo con una porta molto grande Ma Bevi Basilla No no Non ha la testa Perfetto Quindi Omori non è mai stato a sentire Basilla? L'ho fatto per scherzo Era un grande scherzo Ma che battito di cuore Era un grande scherzo Ti prego Ma fa che non succede niente di brutto Tanto bevo eh Pasta Dai lo sai che sono curioso Ora un po' Non ti puoi Ah ok Ora mi scompare anche a me la testa Ok Oppure il suo corpo No Uguale Per nulla disturbante No no Vedrò di andermi a vedere dopo sta roba Le reazioni di altri youtuber Ciao chiave Se non volessi te volessi entrare lì dentro Vuoi essere addormentato o sveglio? Ci sono solo due opzioni Beh Ce n'è sempre un'altra Ma Boh Ciao mani Sono le mie uniche amiche in questo contesto Mi tre porte No Ce ne sono ancora un po' Tutta una porta adesso il gioco Megoglion Disturbanton Ciao Amici faccioni Tutto così sto posto Eh Aspetta 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 C'è il letto C'è il letto l'ox Eh ma C'era un tizio Che forse era Un muore Va bene Non importa Salviamo Perché Qua Rischiamo grosso Invece Secondo me Qua Mica 30 ore Bene 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 Sì Avanti Così piccolo sto posto Solo che le Tu La mamma Pippo Stiamo andando via Solo che faccio scattare il rumore Quindi Ok Non succede nulla Ok Ne manca una Credo Due Ok Poi controlliamo però in giro Perché potrebbe esserci un'altra ancora Però basta con queste teste mozzate Ma che è Sono Mary e Aubrey Tutti morti Mary è qua No Non proprio Questi nuotano nel Hero è qui Dai ma che sta succedendo È schifo Pure Tutti qua Everyone is here Kel pure Musieretta magari disturbante Ehi Ora me lo dici più che Sono un mentitore Che verso puoi fare Che verso puoi fare Quella roba Ok Ce ne manca una Toiti Basil Finito Basil De mia famiglia Questa è una fregatura Questa è una fregatura Tutto le vi pare Questa è una fregatura No Devono essere scriptate per forza Allora le porte Perché Non è possibile Essere arrivato qua Come ultima Cosa Te sei la Pianta ragno Me la ricordo Oh ma guarda che c'è Oh Mori sei qua Mi hai fatto delle foto Oh sono così Vediamo come ti decapitano stavolta Felice Insomma Rasserenato Ho cercato di uscire Di qui da solo Ma Continuo a perdermi In continuazione Mi dispiace Devi esserti stufato Di salvarmi tutte le volte Forse avrei dovuto Fare Di più In ogni caso Tutto è a posto Ora che tu sei qua Andiamoci a casa Sa che casa Non la vedremo mai più Caro Basil Vuoi andare sull'altra Oh vai Vediamo se riusciamo A morire così Ma guardato E poi ce ne siamo Siamo alzati Scusami Non faccio nulla E' felice Non posso muovermi Va bene Tivus trovoscopica Per tutto il tempo Che sono stato qua Ho guardato Nel mio album Delle foto Per tenermi compagnia Quando mi sentivo Spaventato Guardavo tutti I nostri ricordi Che ci siamo Fatti insieme Mi ha aiutato A tenere alte Le speranze Bene Mi sembra Che alcune foto Non ci siano Ma forse Mi sto solo Immaginando le cose Come stanno In ogni caso Obri Che è le hero Quando vorrei tanto Saperlo anche io A sto punto Spero che tu Non ti sia preoccupato Troppo Per me Non vedo l'ora Di vedere tutti Di nuovo Ecco le tue foto Perché ripartiranno Una sonora Hero Sei tu Oh ma riguarda Hero No non è Hero Non mi avevi detto Erano tutti già qua Ora Vengono qua Con le motoseghe Mi sta rompendo tutto Torno indietro Ma lì è sbagliato Ah no Sprite Che Sì sì Mi raccomando Seguilo Tranquillo No Tutti Sprite Rotti Che cazzo Il mega gatto Di attacco on titan Ma che vuol dire Che è l'obre E' bello vedervi ragazzi Come siete stati Vi sono mancato E Aspettate Che cosa Che cosa state facendo Figurati Omori E ora gli stacco la testa Questa è stata parecchio brutta Come morte Oh perché L'hai fatto Ah Ciao Muori Ma vaffanculo Che spavento Speravamo tanto Venissi presto Baciare la carta Noi Stiamo per iniziare Un'altra partita Mamma mia Opre Tene sempre Le vuole Ok Le opre Sì Fanno Casino E poi Che avversi sono Posso andarmene Gatto Giallo Maledetto Tutta colpa tua Non so perché Ma sono sicura Se è colpa tua Vieni manina Andiamoci Questo posto Non è bello Che ore sono Ci vorrebbe Oddio Ci vorrebbe ancora Un pochino Cioè potremmo ancora fare qualcosa Però non so Entrare nella porta rossa Mi sa tanto di Triggerare qualcosa di importante Ma diciamo Mi sono perso Però mi sembra Non ci siano altre porte Direi di no Anche perché Sennò L'avrei già Trovate Va bene Proviamo Proviamo Però dovrò Staccare Se vedo Che è troppo lunga La cosa Una statua De una figura Delegata Della religione Come se Ti stessi giudicando Siamo Snowdin Ah una bistecca Congelata E dura Vuoi mangiare un po'? Certo Perché no? Hai perso Tutti i denti Non sono disponibili Non sono disponibili Altri comandi Perché farmi mangiare Una bistecca O' gelata E ridaglie Ste cazzi di mani Ma non è caldo E fa ragazzi Va bene Allora Se qua mi fa salvare Vuol dire che poi ci aspetta qualcosa di impegnativo Quindi Facciamo un pochino più breve questa parte Forse Ma nella prossima Ne succederanno delle belle Per forza Ragazzi Grazie di essere stati con me Qua è tutto Dal vostro catena Ci vediamo nel prossimo episodio Che forse ci introdurrà veramente Al finale Torneremo nel mondo reale Dio mori Peace